Oggettivamente c'è un campionario di case historine interessanti, come quello che stiamo cercando di fare noi a Civitavecchia, soprattutto sul campo dell'idrogeno, c'è la possibilità appunto di sperimentare ed è la cosa più stimolante che possiamo fare in questo momento, seppur anche con una grande fatica. Ma ci stiamo muovendo anche appunto sul fotovoltaico, addirittura noi stiamo facendo una sperimentazione con l'Università della Sapienza che i nuovi 400 metri di diga nei cassoni stiamo inserendo uno strumento che raccoglie o recupera energia elettrica dal differenziale di pressione dell'acqua con una specie di strumento che assomiglia a un SAX e quindi si chiama Wave SAX. Noi cerchiamo di reperire appunto energia verde e di abbassare il nostro carbon footprint in ogni angolo, non ci sarà la misura del 100%, però può esserci un 3% su un'operazione, un 7% su un'operazione, un 5% su un'altra che insieme abbasserà. Anche in questo caso, molto piacere che lei abbia sottolineato, noi non solo cerchiamo di fare buone pratiche, ma copiamo anche le buone pratiche, ci sono altri paesi e altre realtà dove un lavoro è già stato fatto, non vedo perché non si debba avere l'umiltà di bussare la porta e magari di riadattare alcune di quelle idee alle nostre necessità. È un momento estremamente stimolante, molto difficile, ma è anche un momento di grande cambiamento, nei momenti di grande cambiamento, come dire, vincono e sopravvivono quelli che si adattano di più, avrebbe detto Darwin, e noi stiamo cercando appunto darwinisticamente di essere un porto che si adatta ai cambiamenti.